Grande fratello, lite furiosa tra Beatrice Luzi e Vittorio Menonzi. E lui vuole lasciare la casa. Durante la notte che è stato una lite furibonda tra i due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. I lunghi mesi passati all'interno della casa del grande fratello inziano a farsi sentire. I concorrenti sono sempre più insofferenti e la tensione è nell'aria della casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra le protagoniste indiscusse di quest'edizione c'è sempre Beatrice Luzi che nei giorni scorsi, ha manifestato grande sofferenza, tanto da arrivare a un vero momento di crisi. Ma non è finita qui. La geffina è stata protagonista anche di una lite furiosa con Vittorio Menonzi durante la notte. Cosa è successo? Secondo l'esperto di gossip, Amedeo Venza, i due concorrenti sono stati protagonisti di una furiosa lite all'interno della casa più spiata d'Italia. Lite furibunda ieri sera tra Beatrice e Vittorio, ha scritto Amedeo Venza nelle sue Instagram Stories. La discussione è continuata anche a telecamere spente e Vittorio ha espresso il desiderio di voler lasciare il programma perché si sente oppresso. Durante la settimana, altre indiscrezioni sul rapporto tra Vittorio e Beatrice sono emerse dalle dichiarazioni di Greta Rossetti. L'ex tentatrice ha rivelato a Paolo e Letizia Petris alcune confidenze che le avrebbe fatto Vittorio Menonzi. Secondo quando ha dichiarato, tra l'attrice e il modello sarebbero successe cose agghiaccianti che Vittorio non ha il coraggio di rivelare per paura di essere giudicato.